Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha emesso un decreto con il quale ha confermato la sospensione dalla carica del sindaco di Riace, Domenico Lucano, agli arresti domiciliari dalla 2 ottobre scorso con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per illeciti nell'affidamento dell'appalto per la raccolta di rifiuti. Il provvedimento del prefetto si collega alla decisione con il quale il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha revocato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Locri a carico di Lucano, disponendo però al contempo nei suoi confronti il divieto di dimora a Riace. E Lucano ha così lasciato il suo comune e la sua gente, che rischia ora di vedere sparire quel modello di accoglienza tanto decantato lontano dai confini nazionali. All'inizio l'ha presa molto male, poi piano piano se ne ha fatto una ragione, ma lui sarà sempre combattivo e combattivo sarà sempre combattivo, perché la sua creatura non vuole farle morire.